... Ripalla? Ma se io faccio da qua che... Chi era quei giorni riprendi? Dei turisti Bruno, troppa in tutti eh! Vedi qua? Eh? Ti riprendo? No dai! Vabbè? Qui? Soprattutto andiamo anche e poi dovete tornare a te Sì Quindi? Vai! Secondo me tu dovresti entrare nel castello Perché? Perché è magico Ti hai fatto per te Allora entro Attento neanche che ti veda Mettete lì Voce Tu sei Gaia Sì ma guarda che grande C'ha delle ali Se io faccio così e ve lo metto intanto Sì? Sì anche Per...eh no Mi pezzato Vedi in fondo E resti breve in un mare di polla Sei Gaia Sì 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 Sì